Nonostante le dichiarazioni fatte circa un mese fa da parte del presidente della provincia di Teramo di Buonaventura che aveva annunciato un possibile avvio della stagione sciistica per il 15 dicembre, gli impianti dei preti di Tivo non riapriranno anche per questa stagione invernale. Condizione causata in primis dal fatto che i lavori di manutenzione non sono mai iniziati e i tempi per eseguire le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie essenziali per ricevere il via libera per l'apertura sono oramai scaduti. Un clima molto teso su cui i sindaci di Pietracamela e Fano appoggiati da operatori locali Asbuc hanno voluto incontrare la stampa per spiegare la reale situazione che la montagna Teramana sta vivendo e come primo atto di contrapposizione alla Gran Sasso Teramano proprietaria degli impianti i comuni in questione non hanno voluto partecipare all'assemblea dei soci in programma per questa mattina. Questo è un motivo di dissenso nei confronti delle reiterate infettive che il presidente di Buonaventura si diverta a scaricare sulla comunità di Pietracamela di cui io sono il sindaco. Questo non è concepibile e gli è stato detto più volte che non sarebbe corretto. Le cose si risolvono nelle sedi istituzionali. Le concessioni sono state date, dovevano riaprire gli impianti. Gli impianti non sono stati riaperti. E' stata data una concessione ulteriore di altri sei mesi per permettere lo svolgimento della stagione estiva di cui noi siamo contenti e siccome sono una persona di una sola parola gliel'abbiamo promesso e cerchiamo di mantenerlo. Ma dopodiché questi personaggi se non sono in grado di gestire gli impianti anche in versione invernale devono andare via. Le ripercussioni economiche ci sono perché l'albergo Miramonti è chiuso. Un altro albergo mi ha chiamato disperato il proprietario che è prenotato tutto l'albergo dal 23 di dicembre all'8 di gennaio. Chi li risarcisce? Oggi è una questione di sicurezza. Però questo non vuol dire che i 3 o 4 obblicks che sono stati installati non si possono utilizzare. Se li utilizzassero con un sistema differente, ovvero invece di installarli fissi, questo per chiarire a che servono gli obblicks e perché fanno danni, devono essere utilizzati con l'elicottero, cioè prendono un solo obblicks, uno solo, arrivano sul posto e fanno il distacco. Quindi le autorizzazioni per la riepertura degli impianti può essere data se è questo il problema. Il problema è che ci sono tutte le manutenzioni che sono due anni che non vengono fatte.